E' fottuna che parta campagna perché se una cosa così succede in un centro abitato non saprei dire quanti danni potremmo star qui a quantificare ora. Tiro a mezzo sospiro di sollievo il sindaco di Gorgo e il Monticano Firmino Vettori guardando la devastazione provocata dalla tromba d'aria che si è abbattuta in via Marco Trozzo nei campi vicino alla frazione di Navolè. Un evento estremo potente quanto circoscritto questa foto diventata virale è stata scattata a Motta di Livenza a circa 3 chilometri in linea d'aria da qui. Non è l'unico evento due mesi fa due mesi e mezzo abbiamo avuto un'altra piccola tromba d'aria cosa che non siamo proprio abituati in questo territorio a vedere trombe d'aria o piccoli tornavo insomma nascono così dal niente e se ne vanno però lasciano traccia di dove passano. Un'estate anomala la definisce Vettori di certo la tromba d'aria ha devastato prima questo capannone poi ha intaccato il tetto di una vicina abitazione privata Mario Basso è il titolare dell'azienda agricola. Ho visto i danni che ci sono ho capito assolutamente che c'era stata una tromba d'aria. Lei ha quantificato in quanto il danno? In circa 50-60 mila euro. Cifra che comprende anche la bonifica dell'amianto la copertura era infatti in Eternit. Già questa mattina siamo intervenuti con una ditta specializzata che ha già interpellato lo Spisa proprio per fare un intervento di urgenza. Nel frattempo speriamo che non piova più perché comunque poi sappiamo che l'Eternit a terra sotto la pioggia è pericoloso. E senta signor Mario, lei è assicurato? No, non sono assicurato. Questo è un tema quindi dovrà scucirli in tasca propria questi 50-60 mila euro? Anche perché mi diceva l'assicuratore che non fanno polizze dove c'è Etternit a meno che non ci sia polizze di 50 anni fa. Resta un danno ingente. Lo stesso comune cercherà una via. In ufficio tecnico ne abbiamo parlato per vedere appunto se c'è la possibilità di dare una mano alla famiglia Basso perché proprio stamattina appunto mi ha detto quando eravamo qui col tecnico che non è assicurato quindi lì li deve sborsare tutti di tasca propria. Speriamo che in questa calamità naturale non rientri solo l'acqua ma anche questo benedetto ciclone. Fenomeno preceduto da una pioggia battente sia a Navolet che nella vicina Mansuè. Piove, basta, venti era che poteva dentro l'acqua. Sono stato alla porta dell'acqua fino sotto all'inda. E' molto tanto che ha piuva sti io dì qua. Che ti spiega lì sta? La bagnata dell'estate.